E ora parliamo del mitico Pelé, un giocatore del Bologna degli anni 70, in campo metaforicamente per le popolazioni terremotate. Anche Orei, la grande Pelé sarebbe contento di sapere che quella maglia che regalò nel 1972 a Mauro Pasqualini alla destra del Bologna durante una tournée negli Stati Uniti servirà per ricostruire la palestra di una scuola elementare di Crevalcore, città natale di Pasqualini che ora vive in Toscana. Mi sembrava giusto dare un sentimento a questa maglia qui per darla al paese, per far capire che c'è anche Crevalcore, non solo la parte modenese, perché di Crevalcore, giustamente, io non ne sono risentito, quindi è giusto che si parli anche di Crevalcore. Protagonista dell'operazione L'UISP di Bologna, che ha vinto l'asta per la maglia di Pelé messi in palio dal comune di Crevalcore con gli oltre 9 mila euro raccolti in questi mesi, grazie soprattutto agli arbitri di calcio dell'UISP che hanno devoluto rimborsi e il fondo per la cena sociale. È una maglia simbolo, Pelé è un uomo che è stato molto importante sul campo ma anche fuori per la sua attenzione al sociale e la UISP è da sempre un'associazione che guarda al sociale. Alla cerimonia di consegna dell'assegno al sindaco di Crevalcore Claudio Broglia è presente anche un altro ex rosso-blu di Crevalcore Gianluca Lupi. UISP ha già annunciato di voler restituire presto quel cimelio a Mauro Pasqualini perché è giusto che torni al suo proprietario, tanto generoso, verso la sua terra d'origine. Prossima edizione, mezzanotte e 10, grazie e buona serata.